Ciao, siamo in compagnia di Elena Sanpietro e adesso andiamo subito a conoscerla e a parlare con lei. Ciao Elena, vorrei sapere come è nata la Phoenix Records, in che periodo e con quali intenzioni? Allora, la Phoenix Records è un'etichetta molto giovane perché effettivamente abbiamo aperto ad ottobre del 2012 quindi insomma ci stiamo rodando e stiamo producendo un gruppo, noi siamo un'etichetta di Torino però abbiamo trovato un gruppo modenese da produrre gli Animarma che sono qua nel 1 maggio come ospiti e obiettivamente non è facile di questi tempi gestire un'etichetta insomma. Quali sono le maggiori difficoltà e invece quali sono i maggiori stimoli anche? Allora, partiamo dagli stimoli. Gli stimoli sono l'amore per la musica, le persone che ti inviano le loro demo che poi sono anche comunque la loro vita, ti regalano qualcosa di loro. Le difficoltà purtroppo sono soprattutto trovare le date, inserirsi diciamo in un ambiente che magari non è sempre facile da questo punto di vista perché non c'è molta attenzione al giorno d'oggi per la musica emergente. Parlando di musica emergente, hai notato che ci sono gruppi giovani soprattutto nell'anima o soprattutto anagraficamente che si vogliono esporre? Tutte e due le cose, tutte e due le cose. Noi giudichiamo dalla qualità della musica, non dall'anagrafe. Sicuramente i gruppi in media comunque sono abbastanza giovani o comunque così sui 30-35 anni. Però c'è molta, il problema è che ci sono tantissime persone che suonano e poca gente che li produce. Quindi è un po' una lotta insomma. Quando arrivano da voi hanno già parecchia esperienza o li guidate fin dai primi passi? Ma di solito, adesso io ti dico, io sinceramente ho l'esperienza per il momento solo di un gruppo che mi sto dedicando a loro, quindi loro hanno esperienza perché hanno fatto molta gavetta. Sicuramente io compio delle scelte, dei consigli diciamo, che poi possono essere anche delle scelte artistiche perché questa è la parte più bella secondo me, la direzione artistica è la parte più bella secondo me in un'etichetta. Tutto il resto poi è burocrazia o cose di questo genere insomma. La vostra etichetta predilige dei generi musicali in particolare? Sì, allora noi produciamo solo rock, cantautoriale, dark e fondamentalmente basta così. Diciamo che non siamo molto adatti al folk, al reggae o queste cose qui che apprezziamo ma non sappiamo trattare, quindi ovviamente restringiamo il campo. Quali consigli puoi dare a chi si vuole avvicinare alla tua etichetta? Un mini decalogo diciamo? Ma allora c'è tutto sul mio sito che è www.fenisrecords.it e ci sono proprio le indicazioni su come mandare una demo che deve essere corredata comunque da una biografia e da una foto del gruppo e quindi fondamentalmente cerchiamo di ascoltare tutti. È difficile, non è sempre facile rispondere a tutti perché comunque magari arrivano tante cose e noi siamo quelli che siamo e quindi non è facile. Però come consiglio do di mandare del buon materiale, ben registrato, questo fondamentalmente. Al di là dell'immagine che comunque è importante però soprattutto del materiale ben registrato, non degli stralci e basta. Benissimo. Come vedi il futuro della Fenix? Allora il futuro della Fenix è incerto, nel senso che per me è una scommessa. Scommetto sui gruppi nel senso che ci credo. Se loro crescono io cresco con loro, se non è così ovviamente uno fa degli errori. Comunque l'importante secondo me, visto che siamo appena nati, è crederci e andare avanti così e sperare in bene. Va bene, allora in bocca al lupo per tutti i progetti. E prima ho sorriso perché questo clima di incertezza ci riguarda tutti. Però comunque facciamoci gli in bocca al lupo e anche in bocca al lupo alla Fenix. Grazie. Ciao. 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 .